Ben trovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 25 novembre già diffusi dal bollettino della Regione indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate della Regione sono stati processati complessivamente 1.965 tamponi molecolari diagnostici per un totale di 146.286 tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia. Le positività totali riscontrate sono state 242 e di queste 225 in residenti alle quali è necessario sommarne due di residenti in altre regioni italiane ma in isolamento in comuni della Regione Basilicata. Le rimanenti 15 riguardano residenti di altre regioni e lì in isolamento i cui esiti non rientrano nel computo dei positivi della Regione riguardando soggetti che hanno utilizzato i laboratori convenzionati per la diagnosi. Sul totale dei positivi nella giornata presa in esame risultano in leggera prevalenza i soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile con un'età media che sale per i soggetti di sesso femminile a 50 anni e di 45 anni invece nei maschi. Tra i casi positivi odierni scende al 14% la percentuale tra i casi positivi nella fascia di età 0-20 anni, sempre più rappresentata al 53% la fascia d'età tra i 21 e i 64 anni mentre sale al 33% l'interessamento degli ultra 65 anni. A prescindere dal numero complessivo giornaliero dei tamponi eseguiti e delle positività riscontrate, parametri importanti nella valutazione dell'andamento dell'infezione sono rappresentati dalla percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni rispetto alla media nazionale che nella regione basificata si attesta al 22%. Un altro parametro è la positività e la proporzione dei test positivi sul numero totale dei test effettuati che oggi è in discesa all'11,4%. Quest'ultimo parametro testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale indicando un eventuale sovraccarico nel sistema di tracciamento e isolamento dei focolai. ed infine l'indice RT che si riferisce alla velocità di diffusione dell'epidemia sul territorio e che dà delle indicazioni sull'andamento della stessa e sulle conseguenze che questa potrà avere in termini di nuovi casi. L'RT riferito al periodo precedente è stato valutato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute e da informazioni preliminari ricevute che saranno diffuse ufficialmente nei prossimi giorni e ancora in discesa rispetto a quello delle settimane precedenti. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella regione 118 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 25 interessano il capoluogo. I rimanenti 93 sono distribuiti in 38 comuni della provincia. 107 sono invece attribuiti alla provincia di Matera e di questi 52 interessano la città di Matera mentre i rimanenti 55 sono distribuiti in 17 comuni della provincia. Incroamenti numerici dei casi si osservano nuovamente nella città di Matera oltre che in alcuni comuni delle due province segno probabile di focolai dovuti all'interessamento di qualche struttura residenziale per anziani. Anche se nel complesso continua ad essere predominante il coinvolgimento nel computo delle positività della popolazione generale. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere Lucane Covid dedicate è di 178 pazienti mentre il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva è stabile rispetto al precedente bollettino. 12 pazienti a Potenza e 10 a Matera. I guariti rimangono 1129 unità del bollettino precedente essendo in corso una revisione dei dati di tutti i guariti residenti in regione. I positivi Covid-19 residenti sono 5.689 e i residenti ad oggi in isolamento domiciliare sono 5.513. Da riportare nella casistica 3 decessi associati a Covid-19 che portano a 133 il totale dei decessi dei residenti dall'inizio della pandemia ai quali si sommano 3 decessi di pazienti di altre regioni ma deceduti in strutture ospedaliere della regione. I decessi comunicati riguardano soggetti con un'età media di 81 anni con patologie preesistenti e pazienti con immunodepressione. Ciò conferma della pericolosità dell'infezione soprattutto in soggetti di età avanzata. In conclusione, come a livello nazionale sembrerebbe essersi fermato il trend ascendente dei casi. Stessa cosa potremmo dire sta avvenendo per la regione Basilicata e questo a prescindere dal numero complessivo giornaliero dei casi positivi. Le aziende sanitarie territorialmente competenti stanno potenziando due fondamentali servizi. Da un lato l'attivazione di strutture residenziali assistenziali intermedie destinati all'accoglienza di pazienti covid positivi per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti in proprio ricorso all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione. Ciò consente di decongestionare i presidi ospedalieri regionali e consente allo stesso tempo di assicurare l'assistenza rutinaria ai pazienti ricoverati per altra causa. Altra opera fondamentale che stanno attivando le aziende sanitarie territorialmente competenti sono rappresentate dal potenziamento del tracciamento dei casi per evitare che casi secondari possano andare ad aumentare il numero dei casi positivi sul territorio. Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.